Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. Traffico regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della regione toscana. Sulla FIPI Lift tra Livorno Aurelia e Livorno Porto, in entrambe le direzioni, segnalato personale su strada per lavori. Sulla statale Trebis Tiberina, riduzione di carreggiata per lavori tra Pieve Santo Stefano Nord e Val Savignone, in direzione nord. Sulla statale 67 Tosco Romagnola, senso unico alternato per lavori tra l'allacciamento per Badia Arripoli e Le Sieci. Per quanto riguarda la viabilità cittadina a Firenze, per i lavori della tramvia, da domani restringimenti di carreggiata in piazza Dalmazia e Viale Redi in orario notturno. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!